comunque alla fine domenica andai a casa di mia mamma mi vesti, mi fece la doccia mi vesti e poi facendo un periodo ecco qua capita, sai uno si lava si veste e poi fa un periodo però questa scorreggia era premonitrice di di merda però io oramai avevo i miei tempi stretti e dovevo partire perché andavo con la bici elettrica a piano quindi non è che ci metto 5 minuti e quindi ho detto, smetta a cacamo le mie cagate durano tipo 25 anche 30 minuti meglio che la faccia a casa di mia mamma con la faccia a casa di mia mamma punto e basta decido per comunque ecco qua, decido così me ne vado sulla bici, faccio la mia Mugnano Pianura con la bicicletta e vado a posare la bici nel garage poso la bici nel garage a Pianura scendo dalla bici e la merda che nel frattempo avevo portato da Mugnano a Pianura grazie alla bicicletta al sellino della bicicletta era capito? il sellino faceva da tappo alla merda che io avevo in cupo e quindi il viaggio l'ho fatto serenamente quando ci stavo la bicicletta il tappo si è come se il tappo allora mi ha cominciato a venire sai quei rumori e dal garage a Pianura a casa di mia mamma a Pianura adesso lo posso ricercare non dico un chilometro ma 700 metri e 700 metri e non c'è perché non c'è che è una cosa mai successa nella storia mia però che non succeda da tanto io vado precisamente in bagno sempre tutti i giorni però non mi ricordo manco perché non c'è 7 kg crackers giganti i battiscopi che vi ho raccontato e loro mi avevano otturato non lo so comunque abbia fatto questa mia traversata di 700 metri no facendo anche un po' finta che ho fatto dai rumori perché ragazzi qua bisogna ingannare la mente in queste situazioni qua bisogna ingannarla cioè tu per esempio lo stomaco fa come la fa devi fare finta cioè non puoi manco andare non puoi manco correre perché se corri non lo so perché la merda sa che tu stai correndo non so io veramente guardo sono cose molto la merda sa che tu stai correndo allora lui ah tu stai correndo e io me ne vado quando poi sono mi sono imboccato proprio nel parco di mia mamma che è l'ultimo gli ultimi 300 metri 200 e ha giunciaggio fa ha detto guardo veramente qua se mi ferma qualcuno chiunque esso sia anche se sono gente che mi hanno visto crescere in quel parco io gli dirò che comunque ho anche confidenza da poterlo fare quasi con tutti alla mia età e in questo momento storico e posso dire pure si chiunque sia nel mio parco chiunque sia ci sono dei signori invece che a giacca no glielo direi anche basta glielo direi lo stesso signori e buoni glielo direi a giacca a giacca il discorso è la cacca comunque mi faccio gli ultimi 300 metri è una signora faccia dal balcone che c'è sempre ma salute ciao ci limitiamo meno male che non mi chiede niente ciao come stai a post che mi potevi formare proprio e comunque arrivo nel parco gli ultimi metri sono veramente più e più duri riesco cioè questa è una cosa bella che voglio dire allora il viale dove sono cresciuto a rostare mia mamma abita mia mamma e mia sorella io lo chiamo la mia casa perché poi alla fine è la casa mia quel viale pensate quante volte l'ho fatto nella mia vita l'ho già fatto centinaia di miliardi di volte e invece e mo essendo che poco mi stai con la canna sotto poco tengo 40 anni cioè prima quel viale volavo lo facevo in tempi brevi l'ho già fatto a 3 anni a 4 anni a 5 anni a 6 anni a 10 anni a 15 anni cioè il tempo di quel viale si sta allungando perché giustamente essendo che io soffrivo più vecchie e non sarò più così veloce come quando avevo 15 anni non fanno più viale e io c'è maronna pensavo sto cagando sotto non ce la faccio arrivare là basso in pochi secondi sto diventando vecchia il viale il viale del tramonto e lo vedevo come il viale del tramonto mi sono messo in ascensore mi sono messo in ascensore mi sono messo in ascensore con una gamba con una gamba accustiva ho la gamba così perché guardi mi stavo talmente a scena su strunza la culo ma talmente che mi stavo a scena la culo e non potevo muovere un muscolo solo del culo perché nel culo ragazzi il culo è un muscolo tu basta ci fai capire che tu fai un periodo quello non capisci in quel momento è finito mi immagino proprio la scena che si arriva la mia mamma e mia mamma mi avrebbe guardato a 40 anni e che ci fai una visita avrei pensato comunque perché comunque abbiamo detto ma è pure pure il compleanno di mia mamma ha giocato ah ma io mi ha scusato io prima ero venuto a cattare una pianta ero andato a comprare una pianta non è che ero arrivato subito a cà ero venuto a cattare una pianta fuori là ha giocato un bonsai io mi sono fatto quei 300 metri con un bonsai ragazzi e questo è stato il motivo secondo me non mi ha giocato sotto per via del bonsai secondo me nei bonsai ci sono quelle sai quello sono giapponese ci sarà qualche cosa che porta fortuna tipo in realtà è stata la mia fortuna ma non è arrivato a città a cattare mamma a città a cattare e mi sono aiuto a cattare e mi ha già fatto una cattare dopo due giorni che non cattavo e che mi ha già mangiato i battiscopi i crackers che mi sto mangiando ma ma ho cattare ha fatto proprio sai quando tu fai questo già a volte l'ho detto ma è sempre bene ripetere ha già fatto una cagata sai che tu fai e quando ecco c'è il cioè no ma non fa però fa faccio fa capire mi sto spremendo finché fai o strunz esce dal culo non so se ce l'avete fatto se tu fai si spezza è vero questa cosa qua no si spezza splash poi tutto ti sa già però tu io facevo e io facevo e dici ma quanto è lungo quanto è lungo questo stronzo ma ora che ha belle buone man perché non si fermava io non volevo io non volevo manco spezzare perché poi è diventata una cosa finché esce perché te lo devo spezzare e poi fa due stronzo tre stronzo voglio fare uno stronzo unico a 40 anni voglio fare uno stronzo unico allora ma però mi preoccupavo mentre facevo che pensavo che ha su strunz no una volta è arrivato poi sul sull'acqua e avrebbe avuto attorcigliarsi capite e prendere quella quella forma diciamo tipo i zampironi i zampironi che fanno e poi bevono mi ritocca il culo infortunatamente non è stato così però mi ha già fatto una cacata mamma bellissima a bella proprio bella 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 ma sono veramente un paio di chili d'adosso è stata una una liberazione di qualche lacrima sicuramente mi è uscita come sempre noi noi uomini piangiamo quando cagliamo non so le donne non hanno mai confessato lacrime successo ma noi noi sì noi sì noi non ci vergogniamo di piangere quando cagliamo noi uomini i veri uomini non si vergognano delle lacrime che fuoriescono lo stato psicologico dopo la cagata dovrebbe essere studiato autostima al massimo anzi al minimo io una delle cose che faccio ma sì ma certo basta pensare tu abbiamo la cacca nel corpo cioè tu cammini con cacca dentro al corpo è ovvio che ti senti poco poco pure una merda perché c'è la merda dentro al tuo corpo se tu espleti la tua merda e ovviamente ti senti meglio perché diceva che sta merda non la tengo più poi io per esempio un'altra cosa che faccio quando dopo cagato bevo perché credo che sia una cosa collegata anche alla perdita di liquidi quindi mi sento anche disidratato e quindi bevo bevo ma viene proprio di bere un po' con acqua dopo cagato non avevo mai pensato a questa cosa no io ci ho pensato perché ho sempre notato una sete e una disidratazione dopo cagato